Il GAL Colline Salernitane è testimone diretto della ormai insostenibile situazione dei danni alle culture agricole da parte dei cinghiali. Le immagini che vi mostriamo si commentano da sole e si riferiscono alla notte tra il 16 e il 17 luglio dove una famiglia intera di ungulati ha devastato e saccheggiato un'intera area di noccioleto. Quello che è raccapricciante è che si tratta di un'azienda agricola situata tra Chiaravallisi, Pozzarolo e Catelde, frazioni di Giffoni-Valle e Piana, quindi ormai nelle aree urbane del nostro territorio. Il GAL Colline Salernitane è vicino ai produttori agricoli per provare a prevenire i danni da cinghiali con la pubblicazione del bando 441 che si può consultare sulla homepage del sito istituzionale del GAL Colline Salernitane. Grazie a tutti.